. Uomini e donne, Oscar e Leonora, matrimonio vicino? Lei risponde così. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sempre più innamorati, matrimonio in vista? Le parole di lei che fanno pensare alle nozze. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, dopo l'esperienza Uomini e Donne, oggi sembrano uniti più che mai. La loro vita sentimentale, così come quella professionale, procede a gonfie vele e i buoni propositi per l'anno nuovo, per i due, sembrano essere più positivi che mai. La ristrutturazione della nuova casa e l'apertura del loro nuovo ufficio sta assorbendo tutte le loro energie ma, entrambi, si sono dichiarati più volte soddisfatti del lavoro che stanno portando a termine. La fortuna sembra loro sorridere e, proprio in queste ore, un messaggio lasciato da Eleonora su Instagram sta facendo sperare i fan. Profumo di fiori d'arancio in casa Branzani e Rocchini. . Sì, il loro matrimonio potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginate. A lui non basta una foto con te, ha commentato un utente sotto un'immagine postata da Eleonora sul suo profilo Lui vuole tutta la vita. . La risposta dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Imminente. Lo spero infatti ha scritto la stessa sotto. La fuga romantica in montagna prima di Natale potrebbe essere l'occasione adatta per una dichiarazione di matrimonio. . Oscar avrà letto le parole della sua compagna? Il napoletano sembra essere anche lui molto innamorato di lei, quindi una sorpresa del genere non stupirebbe nessuno. . Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, lavoro, amore e convivenza. Oscar ed Eleonora sono molto uniti come coppia Il feeling tra i due è così forte da spingerli a condividere molti progetti di vita insieme. . La convivenza, il lavoro e gli impegni lavorativi li hanno visti collaborare molto spesso da quando sono usciti dal programma di Uomini e Donne. . La crisi di fine estate dunque adesso sembra più che superata il loro futuro, oggi, appare più roseo che mai. . 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